Quest'anno al Salone di Pechino 2016 abbiamo tutta la gamma Huracan al completo, partiamo dalla classica LP610-4, il nostro 4 ruote motrici, abbiamo la Spyder che è LP610-4 Spyder con una capote in tela e per la prima volta qui in Cina abbiamo la LP580-2 che è la nostra rear wheel drive che è la novità per il mercato cinese. La Huracan è l'unica macchina al mondo che monta un V10 aspirato e ha nelle diverse configurazioni un 4 ruote motrici nella vettura che vedete dietro di me, abbiamo sulla Spyder sempre un 4 ruote motrici con una capote in tela che ha un sistema di apertura e chiusura che è il best a livello mondiale in tempi di apertura e chiusura e può essere aperta fino a 50 km all'ora e nella rear wheel steering abbiamo una vettura a due ruote motrici che è finalizzata principalmente al fun to drive, al divertimento della guida e a tutto quello che si può avere con una vettura di questo tipo. Quali sono le parti? La Huracan rear wheel drive è una vettura che a seconda del programma di guida che viene scelto, quindi strada, sport e corsa, rilascia tipi di emozioni completamente diversa. In strada è una vettura che è leggermente sottosterzante, quindi altamente sicura, in sport possiamo avere la miglior performance possibile e quando la mettiamo in corsa diventa sovrasterzante, per cui è più facile fare drifting, è veramente più facile avere divertimento con questa macchina, il tutto pur sempre sotto un controllo del sistema di antipattinamento e di stabilità che abbiamo che garantisce ai nostri driver di essere sempre entro il limite delle loro possibilità.